Questa è la storia di uno di noi Ehi! Chi verrà? Alz! Ehi! Chi verrà? Alz! Ehi! Chi verrà? Alz! Ehi! Chi verrà? Ehi! Ho detto di parlare! Farni vedere i documenti! Da dove vieni? Dove sei diretto? Domande filosofiche? Mi prendi per il culo! Che cosa porti in borsa? Fai il tuo uso di stupefacenti! Ehi! Chi verrà? Alz! Ehi! Chi verrà? Alz! Ehi! Chi verrà? Chi verrà? Della cazza, Dani! Vietato fumare! Proibito sporcare! Non si sputa per terra! L'accesso è consentito solo agli addetti ai lavori Di sentire crea sfiducia, ordine e sicurezza dalla parte del cittadino C'era una volta il paese dei furbi C'era una volta il paese dei furbi Erano ricchi alcuni, molti erano così poveri Comunque erano tutti dei mascalzoni Orecchie da mercanti, dai pensieri impuri Tuttavia sempre in chiesa Se li prendi tutti insieme Non ne salvi neanche uno! Ehi! Chi verrà? Alz! Ehi! Chi verrà? Alz! Ehi! Chi verrà? Alz! Ho detto di fermarti! Dopo momenti! Da dove vieni? Dove sei diretto? Scommetto che fai l'uso di stupefacenti Che cosa porti in borsa? Brunta zecca comunista! Adesso sono a fare i tuoi! Adesso sono a fare i tuoi! Seguono quei momenti che non vorresti vedere Seguono stati d'angoscia tali che ti chiedi perché Cosa ha in testa certa gente Cosa ha in testa certa gente Cosa ha in testa certa gente Seguono quei momenti che non vorresti dire Ti viene un'abbia grande Ti viene un'abbia grande Almeno quanto un male in tempesta Ti viene un'abbia grande Come un male in tempesta Che cosa impesta Certa gente Che cosa ha in testa Certa gente Madre di Pio! Passa units Mi F Ü Mi 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 bill etti Grat M Mi P Grazie a tutti.